L'Istat ci consegna dei dati positivi per l'occupazione in Campania e una valutazione positiva delle politiche del lavoro. Abbiamo una crescita dell'occupazione nell'ultimo trimestre del 2012 rispetto all'anno precedente di 4 punti percentuali con un'occupazione che nel caso delle donne cresce addirittura ai 13 punti. Naturalmente non è solo rose, ci sono anche delle difficoltà, cresce la disoccupazione, ma in Campania cresce la disoccupazione delle persone che cominciano a preoccuparsi di cercare lavoro, di trovare opportunità. Quindi è anche il momento, visti i risultati positivi delle politiche del lavoro in Campania, di fare anche un appello alle parti sociali, ma soprattutto anche alle imprese, di cercare di utilizzare gli strumenti regionali e alle persone di provare a cercare delle opportunità, di scommettere su se stessi, a trovare degli spazi, perché in questo momento abbiamo creato delle condizioni che con l'apporto di tutti, con il lavoro di tutti, ci aiuteranno sicuramente a continuare a dare dei dati positivi. come quelli che in questo momento ci vedono tra mille difficoltà però avere dei segnali di speranza molto importanti sui quali dobbiamo continuare a lavorare.